bene ragazzi benvenuti in questo nuovo video come sempre siamo in salita però questo giro sopra tra una adesso si sale fino alla chiesa di bioggio quasi vallone bene località quasi vallone raggiunta dronatina qua che passaggini questi e però bello proprio per chi soffre di vertigini edo ma non sai che io soffro di vertigini breve ma intenso ovviamente quelli là davanti giù a tuono io pian pianino me le rubino bella sta difesa però wow 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 oh oh rischio e se c'è qualcuno davanti posso anche andar giù un pochino più spedito eccoci a bioggio e comunque è bello dovrebbero pulirlo se lo puliscono faccio a doppia velocità no ma poi la prima volta che si fa un sentiero è sempre meglio farlo piano questa è la chiesetta di bioggio ragazzi that's good iscriviti al canale mamma mia i professionisti del dh qua bello tecnico bello in piedi cazzarola non c'è proprio cosa cazzo è bello bello che figo eh ragazzi bello cazzarola realmente cazzarola Grazie a tutti. 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 Meno male che si fermano a dare un'indicazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello, ci piace. Io peso. Si, tutto a posto. Caduta fatta. Mamma mia. Rischio ecletico. Ah, ok. Senza freni, senza freni, senza freni. Io sono sotto la bici. Bene ragazzi, con l'ombra della galleria. Posso dire che il video si è concluso. Abbiamo portato a casa anche la prima caduta della bici. e quindi, grazie a tutti. E quindi, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.